Shoppo il super pass su squadbusters, ciao ragazzi benvenuti all'interno di questo nuovo video bomba dove andiamo ad analizzare l'offerta del super pass di squadbusters Infatti ho completato il primo passettino che sono già andato a comprare, potete vedere come ho fatto tramite la playlist in altro, ho fatto un video come shoppare su squadbusters Venuto anche secondo me molto molto bene, interessante per molti di voi quindi se vi interessa lo potete andare a recuperare là Ho nuovi personaggi eventualmente da andare a prendere o anche altre cose da fare, insomma mi piacerebbe andare ad analizzare questa situazione con voi Però con calma, con attenzione cercheremo di parlare tutto, ho una marea di monete da parte, le monete le voglio andare ad utilizzare per comprare nuovi personaggi Il dottore però non è uno di questi, vi spiegherò più e più avanti come faccio Andiamo a sbloccare il, diciamo questo baulozzo interessantissimo, faccio l'evoluzione di qua e anche l'evoluzione dei goblincini Ok, doppia evoluzione fatta, livello 24, baulozzo comune di grandezza normale, quindi niente di così emozionante da andare a sbloccare Però fa sempre bene portarsela a casa Il super pass è questo qua, adesso andiamo a vedere le offerte che ci dà, quindi ha delle offerte vere e proprie Infatti con 12 euro ci portiamo a casa un'evoluzione super, delle galline drago, delle chiave dei bauli, delle chiave di fusioni, dei gettoni di cambio 98.000 monete, 9 biglietti di bauli, 1 el tigre e 6 chiavi epiche Questo pass dura la bellezza di 30 giorni e 16 ore, quindi sarà il primo pass in assoluto di Squadbusters E chi è il vapor per non andarlo a shoppare Quindi li schiacciate sopra, poi li pagate 12 euro Vi ricordo che con iOS dovete tornare sul vostro paese d'origine, quindi in questo caso Italia Per quanto riguarda Android ci sono altre metodologie un po' più complicate che però ho spiegato nel video Et voilà, dovrei aver pagato perché ho fatto ok, vedete, azione completata, hai effettuato l'acquisto Sbang, super pass sbloccato, colleziona i super premi Schiacciamo tocca per continuare e ho delle ricompense da andare a sbloccare Ho un baule raro che sinceramente non me ne privo Gli diamo un opening e mi dà 3 di domatore Un'evoluzione super, l'evoluzione super a chi la vado a fare? Secondo me l'evoluzione super ha senso andarla a fare su un personaggio particolarmente forte Quindi un personaggio che te sai che serve assolutamente E attualmente uno dei personaggi più forti del gioco è Gregone Quindi il Gregone glielo dai dentro, il super glielo dai dentro Quindi primo baule super del vapor è il Gregone Poi 2000 monetozze ed infine 12000 monete per completare la cornicetta Ho 3 su 3 dei biglietti quindi io direi che una partita ce la possiamo andare a fare Per parlarvi della situazione pass Quindi conviene andare a shoppare questa tipologia di pass Secondo me può essere che sì Può essere che sì perché è un pass che potrebbe aver senso Vedete che però in questo caso non mi esce il Gregone Cioè quindi cambia di volta in volta cambiano proprio i brawler che ti possono capitare Un po' strana questa cosa Però secondo me ha senso andare a shoppare il pass Uno per una questione di rarità dell'account Vera e propria rarità dell'account Che so che per voi può vuol dire nulla Per me in realtà potrebbe voler dire tanto Perché il fatto di avere un account raro dal punto di vista di essere un creator Fa la differenza Cioè te puoi venderlo abbastanza Ok il fatto di avere un account raro Quindi questa è una cosa che sicuramente io ci tengo da starci dietro E ci sta Detto questo poi ci sono altre situazioni un po' più particolari Che molti di voi non conoscono Ad esempio il fatto che il fatto di avere dei personaggi di rarità importante Come ad esempio il Gregone fa la differenza Quindi le persone sono più invogliate a giocare E a vedere delle persone forti ad un gioco Non so come mai ma funziona così Detto questo comunque io vi ripeto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel pollicione Se volete vedere altri tutorial di Squadbusters Raga ho dei tutorial devastanti in mente Che arriveranno Infatti il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale Non tanto perché mi interessa a me Ma vi dico Stanno per arrivare dei tutorial Che vi verrà la pelle d'oca quando li vedete Io vi avviso Vi devo avvisare perché È fondamentale avvisarvi Ma ho dei tutorial in mente Che non vi sto a dire veramente Delle cose fotoniche Che secondo me piaceranno un sacco E se avete domande su Squadbusters Fatemele pure qua sotto Io sono risposto a rispondere a qualsiasi tipo di persona E quindi se avete delle domande particolari Fatemele pure Fatemele pure che sono Che rispondo molto volentieri Rispondo molto volentieri Mi piace rispondere anche a delle domande un pochetto più particolari Tipo Può funzionare Non può funzionare Parliamo anche un po' del free to win Del free to play Free to win Diciamo C'è un posto pay to win Che sta girando la voce Che Squadbusters è pay to win Devo dire la verità Lo penso anch'io Quindi secondo me il gioco è pay to win Ma vi spiego il perché Supercell potrebbe continuare a mantenerlo pay to win Ci sono varie considerazioni da andare a fare Che derivano un po' dalla mia esperienza Dal mondo di video Mobile gaming E quindi non vedo l'ora di farvi Se invece avete dei tutorial particolari Fatemeli sapere Nel mentre Stiamo cercando di fare meno errori possibili Io purtroppo su sto gioco sono forte Ma non ho ancora ben capito alcune tecniche E soprattutto quando registro Diventa un po' complicato Vedere questi video qua Con sei skip che ti trovi Io direi proprio una fuga di quelle Memorabili Orca miseria raga Ero convinto si potesse passare Orca puzzola raga Meno male Meno male che mi ha buttato fuori lui Io devo scappare proprio Cioè ragazzi Io come faccio a buttare fuori questo? Ah me l'ha preso lui Ah mi ha buttato giù Proprio ragazzi Mi hanno messo all'angolo Hanno detto Ok il vapor L'abbiamo battezzato giù Ed eccoci qua Fatemi sapere qua sotto Cosa ho sbagliato Sinceramente qualcosa Penso di averla sbagliata Perché non ho giocato un gran che bene Però baulozzo comune Con un po' di più Un po' più di cose Più cinque Va bene va bene Il goblin lo facciamo A un'altra evoluzione Quindi siamo alla terza evoluzione Sto facendo un po' di evoluzioni Secondo me potrebbe essere interessante Eventualmente poi In futuro vedere Quanto possono incidere queste evoluzioni Per quanto riguarda il pass 31 giorni Si completa abbastanza velocemente Per completarlo Basta raccogliere il gem in battaglia Sbloccare le ricompense Ottenere il super pass Per avere Diciamo Delle ricompense Delle ricompense migliori Sicuramente arriverà un momento Dove adesso inizierei a offer live Principalmente di squadbusters Sempre naturalmente Accompagnando Brawl Stars Però perché mi piacerebbe Arrivare all'Arena Royale In tempo utile Cioè entro il Global Launch Vorrei arrivare all'Arena Royale O addirittura Ho visto che c'è al Mi sembra al 60 Non mi ricordo quale Esatto al 60 Quella di Boom Beach Secondo me arrivare a Boom Beach È veramente dura Anche perché uno deve giocare tanto Io non ho attualmente tanto tempo Però ogni tanto Qualche game Me lo farò E so che piacerà anche a voi In questo momento Per quanto riguarda il mio profilo Siamo a livello 8 di esperienza 76 partite fatte Livello 24 Dell'avventura della squadra Arriveremo sicuramente al 30 35 E così via Ed è fondamentale sbloccare nuovi personaggi I personaggi sono qualcosa che mi dà molto fastidio Il fatto di non poter sbloccare E vorrei sapere Voi avete Cioè Avete facilità Dal punto di vista di trovare personaggi Perché a me non sembra in questo momento Dovrebbero migliorarla Può essere che sì Mi sembra Mi sembra un po' strano Il fatto di non aver trovato ancora personaggi Detto questo Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un bel pollicione Noi come al solito Siamo sempre qua Belli carichi Su Squad Busters Monopoly Gobro Stars Tutti i giochi Chi più ne ha più ne metta Ci vediamo domani Aller 14 Cliccate uno di questi due video Che sono uno più bello dell'altro Un bacione a tutti